come sa io vengo da una regione di mare sono anche una grande nuotatrice quindi non temo diciamo il mare aperto battuta a parte me la consenta ma ci stava per noi il momento è stato drammatico perché veramente non vedevamo nessun motivo per buttare questo paese nel caos a cinque mesi dalle elezioni ci poteva essere una conclusione ordinata ed era quello che chiedevano tante tante categorie cittadini preoccupati comunque a questo punto siamo le elezioni ci saranno ci saranno molto a breve io penso che sia un bene che siano a breve perché questo paese ha comunque bisogno di una guida e votare il 25 settembre pur con molte difficoltà può consentire a chi vincerà le elezioni di fare la legge di stabilità perché entro metà ottobre si ci vorranno 20 giorni per l'insegnamento del parlamento però bisogna mandare con mandare il conti di bilanci in europa perché noi siamo collegati il nostro bilancio e questo bisogna entro dicembre fare la legge di stabilità altrimenti c'è l'esercizio provvisore una corsa a ostacoli e contro il tempo speriamo in bene allora detto ciò certamente come diceva anche giovanna vitale scusi solo torno al al mare diciamo al campo come diceva giovanna vitale noi stavamo lavorando su un altro schema ma avevamo anche detto con nettezza che per noi la prospettiva del governo draghi che era una prospettiva per il bene del paese una prospettiva sulla base della quale sulla scelta della quale ci sarebbero state le alleanze o le divisioni e quindi non ci saranno queste alleanze con chi ha fatto accadere questo governo adesso capiremo a quei riformisti a quegli altri quali altri schemi perché invece pensano che draghi dovesse andare avanti nel mare aperto quantomeno qualche piccola boa occorre occorre piazzarla ignazio la russa mi piace